ciao a tutti amiche amici benvenuti o bentornati sul canale per un nuovo video allora oggi finalmente riesco a trovare un po di tempo da dedicare al canale per registrarvi questo video video all in cui vi mostro gli acquisti che ho effettuato nell'ultimo periodo per quanto riguarda la skin care il makeup e i profumi sì perché in questo video ci sono due profumi in quanto ultimamente mi è preso il trip dei profumi come se non ne avessi abbastanza e anche dei prodotti labbra quindi ci sono diversi prodottini makeup per quanto riguarda le labbra come vedete sono stata dal parrucchiere ho fatto la mia solita piega mossa ho deciso di non rifare le schiariture come molte di voi mi avevano consigliato in uno degli ultimi video le ha semplicemente ritornalizzate cioè mia appunto mi ha applicato un tonalizzante che ha tolto un po il giallo che era uscito della delle schiariture appunto e devo dire che il risultato mi piace molto adesso poi ci ritornerò a fare le schiariture prima di lui mi ha detto tra un paio di mesi il parrucchiere mi ha detto di rifarli tra un paio di mesi ma non lo so perché se rifarle prima dell'estate ci penserò insomma man mano che andiamo avanti e insomma vedrà quello che voglio fare con questi capelli però per il momento volevo tagliarli perché a me danno fastidio i capelli lunghi e quindi soprattutto adesso che comincia il caldo quindi volevo tagliarli ecco ok cominciamo con il video e vi mostro non mi ti ricordo ragazze perché purtroppo non ho molto tempo ultimamente per dedicarmi al canale in maniera proprio organizzata in quanto tra lavoro e soprattutto il ragazzino mi dà parecchio da da fare e soprattutto da lottare psicologicamente perché sta entrando in una fase un po della preadolescenza un po difficile e quindi insomma faccio fatica a organizzarmi per il canale quindi che cosa succede magari faccio degli acquisti e li metto in uso perché non posso aspettare di fare l'all magari lo faccio dopo un mese e mezzo e quindi ho confuso un po le cose e quindi vi dirò quello che mi ricordo dove l'ho acquistato perché l'ho acquistato e altrimenti insomma vi farò vedere i prodotti tanto comunque sono dei prodotti che si trovano tranquillamente alcuni nella grande distribuzione alcuni online alcuni chiaramente nei negozi fisici comunque man mano che vi parlo dei prodotti vi dico insomma se mi ricordo dove l'ho acquistato ecco cominciamo con il solito ciuffo che gli ho detto di non tagliarmelo troppo lungo in modo che non mi scendeva ma non ce l'ha fatto questo parrucchiere a tagliarmi sto ciuffo un po più lungo va bene cominciamo con la skin care allora ho voluto prendere questo l'ho preso se non mi ricordo male alla copp un giorno che ero lì a fare la spesa questo struccante occhi bifasico della uriage sapete che a me piace provare anche gli struccanti bifasici burri struccanti in generale diciamo che lo struccante bifasico è la mia metodologia preferita per quanto riguarda lo struccaggio degli occhi perché la trovo la più delicata sui miei occhi sensibili quindi non mi danno fastidio generalmente gli struccanti bifasici mentre con i burri devo fare un po' attenzione questo non lo avevo mai provato era un'offerta a circa 8 euro all'ipercop e l'ho voluto acquistare e qui dice de maquian waterproof e make up remover bla 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 quindi insomma questo qui l'ho voluto provare poi in vista dell'estate ho voluto acquistare anche un'acqua spray un'acqua termale anche se questo non credo che sia un'acqua termale proprio un'acqua spray lenitiva questa qui della bioniche defense di questo ne aveva parlato bene Ekaterina The Witch Pozioni di Bellezza ciao Ekaterina se mi stai ascoltando lei appunto diceva che è molto buona era un po' che ci facevo il filo a quest'acqua spray lenitiva però non la trovavo mai alla Parafarmacia Medimarket l'ultima volta che ci sono stata l'ho trovata a 6 euro e me la sono voluta portare a casa poi acquisti di skin care alcuni li ho effettuati in una profumeria alcuni in un sito che non mi ricordo dove l'ho comprato questo boh vabbè vi dico man mano che vi faccio vedere i prodotti allora ha le profumerie rossi che sono delle profumerie ecco qui il sacchettino che sono delle profumerie che sono a Bologna dove io acquisto poco perché sono veramente molto care però ogni tanto si trovano degli sconti e delle offerte interessanti un giorno che ero lì a fare la spesa sono entrata alle profumerie rossi e ho visto questi cofanetti di Collistar che erano scontatissimi al 50% c'erano un po' di tutte le tipologie voi sapete il mio amore per la vitamina C infatti qui ci sono anche dei prodotti alla vitamina C quindi ho scelto il cofanetto di Collistar alla vitamina C eccolo qui con questa bellissima pochette magari la apriamo ve lo faccio vedere io tra l'altro con la skin care viso di Collistar con le creme per esempio la Rigenera oppure avevo provato la crema al collagene ragazzi io mi sono trovata benissimo per cui quando ho visto questo cofanetto a 25 euro circa con la crema alla vitamina C il contorno occhi e la pochette sinceramente ho detto no vabbè vieni a casa con me e all'interno appunto c'è la crema alla vitamina C e acido ferulico questa non vedo l'ora di provarla sinceramente adesso in uso un'altra però non appena la finisco questa qui la metto subito in uso mi ispirava soprattutto anche perché appunto contiene acido ferulico oltre alla vitamina C e all'interno in omaggio c'è questa mini taglia di questo contorno occhi all'acido ialuronico e peptidi della linea attivi puri di Collistar questo dovrebbe essere in gel se non sbaglio forse ce l'avevo già avuto questo contorno occhi sempre in mini taglia trovato in qualche cofanetto e quindi insomma per questa cifra non ho voluto lasciare lì perché sinceramente era una buona offerta erano tutti scontati al 50% c'erano diverse linee che mi sarebbero interessate però ho scelto quella con gli attivi che mi ispiravano di più e che funzionano meglio sulla mia pelle e poi all'interno c'è questo campioncino delle gocce magiche di Collistar che tra l'altro io ho e che sono ottime ok quindi questo qui è il primo acquisto di skin care e poi in un outlet online quindi di questo per esempio mi sono letta l'inci in un outlet online dove hanno dei prezzi veramente molto convenienti mi sono voluta prendere questo contorno occhi di Lancome questo è il Genefique Yeux eccolo qui questo costa un fottio nei siti normali io l'ho pagato sui 35 euro che è comunque un buon prezzo considerando che è un contorno occhi appunto di Lancome di questa linea di Lancome che costa parecchio sono i classici 15 ml di prodotto e dovrebbe avere una texture in crema gel sì sì adesso questo lo metto in uso sì una texture in crema gel e me ne aveva parlato bene anche la mia amica Rosa che mi segue su Instagram e niente quindi l'ho voluta acquistare questo è un contorno occhi che contiene un complesso di vitamina C stabilizzata acido ialuronico probiotici e quindi dovrebbe avere un effetto proprio anti-age anche illuminante levigante insomma un contorno occhi adatto a una donna matura della mia età insomma ad una donna con la pelle matura della mia età io non ho il contorno occhi particolarmente segnato però mi piace trattarlo bene per cui cerco di acquistare dei prodottini che mi diano soddisfazione non sempre ci riesco però devo dire abbastanza perché ormai ho capito ciò di cui ha bisogno la mia pelle ok direi che come skin care ho finito quindi adesso si aspettate che metto a posto queste cose qua passiamo al make up e ai profumi allora sempre in questa outlet online eccolo qui vi faccio vedere che cos'altro ho acquistato sempre a dei prezzi abbastanza stracciati ho voluto prendermi il mascara di Yves Saleran perché non l'ho provato il Lash Clash questo qui è il mascara volume estremo vabbè il mascara di Lash Clash di Yves Saleran era una delle poche penso che non l'aveva provato questo mascara bellissimo il pack penso di averlo pagato una ventina di euro quando questo comunque a prezzo intero costa parecchio appunto perché su questo outlet ci sono dei prezzi veramente molto stracciati e poi mi sono voluta in realtà avevo ordinato un'altra matita poi però mi hanno mandato questa ho chiuso un occhio lo stesso la matita occhi nera di Dolce Gabbana però comunque sono contenta di provarla questa qui è la nera classica non leggo che cosa c'è scritto comunque vabbè la matita nera di Dolce Gabbana e poi sempre di Dolce Gabbana ragazzi questi costano un occhio della testa in negozio per esempio le ho viste nelle profumerie rossi 50 euro 45 io l'ho preso penso a 19 euro questo rossetto liquido in mousse di Dolce Gabbana allora intanto il packaging è stupendo bellissimo con questo con logo loro di Dolce Gabbana in questo rosa freddo molto bello che io ho già indossato all'interno di un video non mi ricordo quale l'ho già provato questo è molto bello il colore è molto bello ha un finish opaco ma quello che mi piace è che proprio non si sente sulle labbra è in mousse ha una texture proprio sottilissima e ha anche una buona durata nel corso della giornata per cui è un ottimo prodotto certo devo dire che a 50 euro non lo acquisterei però per questa cifra ovviamente sì per cui me lo sono voluto lasciare a casa e questi cioè non l'ho voluto lasciare cosa sto dicendo per cui non l'ho voluto l'ho voluto acquistare poi questo non so dove me l'hanno dato boh vabbè poi sempre alla parafarmacia Medimarket ho voluto acquistare questo cofanetto di Codalie con il profumo l'acqua profumata Ainge de Vigne eccolo qui perché era stra scontata in omaggio c'è anche il burro cacao il lip butter di Codalie questo non mi pare di averlo mai provato era si può scontatissimo a circa 22 euro per cui l'ho voluto acquistare io comunque l'ho spruzzato l'ho provato il profumo mi piace abbastanza questo ha delle note di le note olfattive sono delle note di uva fragola neroli e paciuli molto buono devo dire ma leggero infatti dice light è un profumo qui dice Addiction Eau de Parfum Light Fragrance e appunto poi c'era in omaggio il burro cacao era una buona offerta per cui l'ho voluto acquistare poi che cosa ho acquistato vi faccio vedere ah sempre alla parafarmacia Medimarket ritornando alla skin care c'erano scontatissime queste creme della Resultime Resultime è la linea un po' più diciamo high end di Nuxe Laboratoire Nuxe ho voluto acquistare questa crema calmante al magnesio con il 91% di ingredienti penso di origine naturale questa è una crema lenitiva allora io non ho particolari problemi non ho bisogno generalmente di creme lenitive però l'ho pensata per quest'estate quando magari andrò al mare l'anno scorso per esempio mi era capitato che avevo la pelle un po' arrossata quando tornavo dal mare quando ero stata al mare e sono andata al supermercato a comprarmi una crema lenitiva che non mi piace tra l'altro per cui ho detto quest'anno mi compro questa vediamo se mi ci trovo bene io con Resultime devo dire che mi trovo sempre bene al momento sto utilizzando un contorno occhi il giorno che vi ho fatto vedere anche nell'ultimo video dei top e flop per cui questa costava proprio pochissimo una ventina di euro per essere un brand high-end per cui l'ho voluto acquistare poi ultimi due sacchetti ragazzi vi faccio vedere gli acquisti che ho effettuato da Sephora il sabato scorso quando mi sono incontrata e ne avevo già parlato nel video dove ho provato i prodotti di Seldridge che tra l'altro vi lascio linkati qui da qualche parte perché ci sono altri prodotti lì che avevo acquistato che non inserisco qui all'interno di questo haul perché li ho fatti vedere in quel video ve lo linko qui magari se vi interessa quel sabato io ho conosciuto due colleghe youtuber che sono Anna Morana e le sorelle anzi tre colleghe youtuber che sono Anna Morana e le sorelle Martinos che hanno un canale insieme vi saluto e vi mando un bacio mi ha fatto davvero piacere conoscervi e niente e quindi siamo andate da Sephora insieme e ho fatto ovviamente dei danni degli acquisti cosa vuoi acquistavano tutte e quindi dovevo acquistare anch'io qualcosa e cosa mi sono presa da Sephora allora da Sephora mi sono presa uno di questi nuovi blush in crema di Sephora questi costano pochissimo ragazzi sono molto carini devo dire l'ho già provato una volta devo ancora capire bene la durata però devo dire che è molto carino questo blush eccolo qui magari di questo non vi faccio lo swatch perché tanto si vede abbastanza bene insomma si vede abbastanza bene e poi tra l'altro sapete che i prodotti ve li faccio vedere poi in applicazione sia qui su Youtube se faccio dei get ready with me e sia soprattutto su Instagram la mattina quando vado al lavoro infatti vi invito a seguirmi su Instagram soprattutto per questa tipologia di tra virgolette contenuti tengo però a precisare che il mio non è un canale professionale quindi non vi aspettate i reel professionali no proprio è un canale in cui Instagram anche Youtube però in questo caso stiamo parlando di Instagram in cui proprio io parlo come se stessi parlando all'amica mi dico non so io mi sono messa questo mi sono messa il blush di Sephora eccetera insomma ecco non è un canale professionale e niente quindi dicevo ritornando al discorso del blush questo lo proveremo man mano appunto metto in utilizzo i prodotti tutti i giorni e vi farò sapere ve l'avevo già fatto vedere se non mi ricordo male però non mi ricordo sinceramente perché boh vabbè poi ho acquistato dei prodotti sapete che è arrivata House Lab da Sephora il brand di Lady Gaga e ho acquistato il blush quello ve l'ho fatto vedere nel video di Lisa Eldridge in applicazione per cui se vi interessa vedere quel blush in applicazione vi rimando a quel video che vi ho linkato prima io l'ho preso nella colorazione Ibiscus Ase dopodiché ho voluto acquistare un prodotto labbra che è uno dei tanti che vedrete in questo video che è il sono questi uno di questi Lip Glaze PHD Hybrid Lip Glaze è un gloss sostanzialmente io l'ho preso nella colorazione Macaron che è un nude rosato molto bello devo dire magari questo lo swatchiamo il pack devo dire molto a me piacciono questi pack di Lady Gaga pack satinato questa credo sia plastica ma è satinato è molto bello devo dire e questo è il gloss con l'applicatore bello cicciotto ed è questo bel nude rosato eccolo qui sapete che amo i gloss soprattutto d'estate adesso mi sta partendo purtroppo e dico purtroppo per le mie tasche anche la passione per i rossetti ecco il solito ciuffo però i gloss rimangono sempre la mia super mega stra passione poi che cosa mi sono presa ho preso una mini taglia di questo make up forever mist and fix questo spray fissante questo di questo ne ho sentito parlare bene da molte persone tra cui Giusy una ragazza che fa parte di questo gruppo whatsapp di appassionate di make up ciao Giusy se mi stai ascoltando appunto di cui faccio parte da un po' di tempo e e niente quindi anche su consiglio di Anna l'ho voluto acquistare questo mister fix costa pochissimo tipo 8 euro perché sono solamente una mini taglia da viaggio è poco prodotto comunque non so quanto prodotto sia però molto poco vabbè dai non perdiamo tempo in queste cose comunque è una mini taglia dopodiché sempre perché siamo in trip con i profumi ho voluto acquistare una mini taglia di questo narciso rodriguez pudre è una profumazione questa qui molto talcata però diciamo che non lo avrei acquistato in taglia di vendita soprattutto adesso che andiamo verso l'estate però era in mini taglia anche Anna l'aveva preso per cui l'ho voluta acquistare anch'io e poi questo ve l'ho fatto vedere poi su consiglio delle sorelle martinos soprattutto di Angela mi sono voluta acquistare uno dei lip oil dei tinted lip oil di rare beauty questi qui io non li avevo per niente considerati invece sono molto belli devo dire eccoli qua ho voluto prendere una colorazione un po' diversa dal solito ragazzi perché sennò mi riempio sempre solo di tutti i rosa freddi anche soprattutto dietro consiglio di Angela ho preso questa colorazione che si chiama serenity ve la swatcho questi praticamente sono dei lip oil che poi dopo quando svaniscono rimane il colore praticamente sulle labbra ed è così infatti rimane è questa colorazione un po' un corallo spento lo definirei però lo vedo molto bene e molto adatto per l'estate c'erano anche delle colorazioni rosa ragazze però non ho voluto esagerare troppo con i rosa appunto altrimenti mi riempio sempre di rosa infatti per quanto riguarda il rosa invece ho voluto prendere uno di questi lip blush di huda beauty eccolo qui questo quando ho visto questo swatchato non ho saputo resistere questo è nella colorazione rosy kiss qualcosa del genere ve lo faccio vedere sono questi questo è un prodottino che può essere utilizzato sia sulle labbra che come blush ve lo faccio vedere pack bello devo dire satinato e questo è il colore infatti vedete è un questo rosa bello devo dire mi sembrava più acceso è un po' più spento però bello devo dire questo qui dice come si chiamano questi lip blush non ci leggo perché ragazzi vabbè comunque questo su sephora poi che cosa mi hanno dato dei campioncini mi hanno dato ragazzi un campioncino che ho messo qui che mi hanno messo qui del nuovo fondotinta hd glow di make up forever che ho già provato ieri devo dire molto bello però ecco penso che non l'acquisterò perché è proprio un fondotinta adesso andiamo verso l'estate io preferisco le cose delle cose un po' più leggere tipo delle skin tint o dei prodotti come lo detente di chanel oppure il brightening cc serum di by terry durante l'estate non mi piace mettere fondotinta troppo coprenti non è nel senso non è un fondotinta coprentissimo però per me lo è ecco questo volevo dire dipende sempre uno quello che cerca poi mi hanno dato un campioncino di questo gucci flora magnolia quello nel pack lilla perché avevano questi profumi poi un campioncino non mi ricordo questo dove me l'hanno dato perché ho mischiato i campioncini barberry hero eccolo qui non mi ricordo se me l'hanno dato da sephora o da qualche altra parte un campioncino di questa crema di di garlen per qui dice revitalizing è uno shampoo scusate che crema questo è uno shampoo lo shampoo della linea abel royal di garlen questo sono curiosa di provarlo anche perché sinceramente non mi comprerai mai uno shampoo a cui insomma non oso immaginare quanto costi e poi ho un campioncino no questo forse me l'avevano dato con un altro ordine boh non lo so sì direi che qui vi ho fatto vedere tutto rimetto a posto questo ve l'ho fatto vedere questo ve l'ho fatto vedere con sephora direi che abbiamo finito quello ve l'ho fatto vedere andiamo all'ultimo ordine comunque mi viene il video un video non lunghissimo ma sempre abbastanza l'ultimo ordine che ho fatto su sensation profumerie dove ho acquistato un profumo e altri prodottini labbra allora qui intanto un altro campioncino di barbari hero si vede che adesso le profumerie danno questi campioncini un campioncino di questo rossetto di rouge dior lipstick nella colorazione questo qui c'è scritto saten se non sbaglio questo rosso eccolo qui e poi per finire vi faccio vedere appunto quello che ho acquistato su sensation profumerie dove mi hanno dato anche questo scrub della linea mind and body di diego dalla palma o me l'hanno dato da un'altra parte questo non mi ricordo fatto sta che comunque me lo hanno dato e di questo avevo io ho in uso anche la crema corpo che mi piace molto e niente quindi sono contenta lo scrub non l'avrei acquistato per cui sono contenta che mi hanno dato il cappioncino così lo provo un campioncino di angel che non mi è mai piaciuto però non si sa mai perché i gusti cambiano ho notato questa cosa che anche i gusti in fatto di profumi devo dire che cambiano molto per cui può darsi adesso che io riprovi angel e mi piace allora su sensation profumerie ho voluto acquistare dei prodottini labbra un altro barbari hero cioè mi sono riempita di barbari hero praticamente ho voluto acquistare dei prodotti di labbra per l'estate allora intanto uno è o questo l'ho acquistato su mariano non mi ricordo più ragazze no vabbè comunque non mi ricordo comunque ho acquistato questo prodottino uno dei nuovi candy glaze di Yves Saleran sapete che Yves Saleran ha riformulato questi rossetti questi balsami labbra idratanti colorati e io ne ho voluto acquistare uno e ho preso la colorazione 15 questi sono i rouge volupte candy glaze e il mio colore si chiama snow casting nude che è il nude perfetto ed è quello che indosso in questo momento l'ho contornato con una matita veramente è il nude perfetto questo packaging stupendo di Yves Saleran quelli i rouge volupte shine hanno il packaging dorato questi invece hanno il packaging argentato bellissimo devo dire bisogna stare un po' attenti a quando si insomma si si gira per far uscire il prodotto a me piace piace tantissimo vabbè l'ho applicato un paio di volte però mi piace comunque moltissimo hanno tra l'altro una buonissima profumazione sia questi che i rouge volupte shine sono molto idratanti chiaramente quindi non so magari ecco forse anche nel low cost si può trovare qualcosa di simile a meno ecco per questo qui l'ho pagato una trentina di euro ma insomma mi sono voluta trogliere questo sfizio perché sono in fissa con i prodotti labbra e infatti ragazzi ho voluto acquistare altri tre prodottini labbra di clarence perché clarence comunque fa dei prodotti fantastici io ne ho parlato sempre più o meno sul mio canale sia dei fondotinta la famosa cipria insomma io mi sono trovata trovo che è un ottimo brand un po' sottovalutato e quindi ho voluto acquistare siccome non so se vi ricordate nell'ultimo l'avevo acquistato il lip oil shimmer nella colorazione 01 ho voluto prendere altre due colorazioni queste più diciamo estive più adatte all'estate ho preso il lip comfort oil shimmer nella colorazione 08 questo è bellissimo ragazze questo l'avevo visto anche da Martina Vinai ciao Martina se mi sta ascoltando eccolo qui bellissimo questo non vedo l'ora di indossarlo poi ho voluto prendere un fucsia questo quindi è uno lo 03 sempre lip comfort oil shimmer nella colorazione 03 che si chiama fucsia mi pare no rose qualcosa mi confondo no questo è il funky o funny non non leggo bene no funky raspberry herry eccolo qui adesso direi basta con i prodotti labbra perché mi sono riempita cioè mi sono rifatta di anni dove non acquistavo nulla per quanto riguarda prodotti labbra questo aspettate poi chiaramente questi bisogna vederli sulle labbra ok e poi un lip comfort oil nella versione intense io per quanto riguarda il lip comfort oil classico solo quello i classici o solo quello classico nella colorazione color miele e mi piace moltissimo e siccome ho sempre le labbra secche questi secondo me sono i prodotti ideali per me soprattutto l'estate dove le labbra mi si seccano molto per il sole e dicevo quindi ho voluto prendere anche un lip comfort oil nella versione intense per provarlo perché questo io non l'ho provato non li avevo mai provati e ho preso la colorazione 06 intense fucsia che ha un packaging che sembra rosso più che fucsia però il colore si chiama intense fucsia questo l'ho già provato quando il colore rimane comunque il colore sotto bello no questo è bellissimo d'estate questo rosso fragola eh sì è un colore fragola cioè quindi quando il colore poi va via rimane magari cioè quando va via il lucido rimane il colore ecco questo volevo dire come vedete mi sono riempita di prodotti labbra direi che ho finito poi ho voluto acquistare un profumo un'acqua allegoria di Guerlain perché era tanto che volevo acquistare un'acqua allegoria di Guerlain è uscita questa nuova ne ho provate tante mi piacciono tantissimo tantissime profumazioni delle acque allegorie di Guerlain però costano una fucilata per cui ho dovuto scegliere e mi sono orientata comunque su quella ho preso quella nuova la Flora Bloom nella versione forte quindi più intensa e l'ero andata a sentire in profumeria nelle profumerie rossi e lì ovviamente non l'ho acquistata perché costano tantissimo in profumeria l'ho acquistata su Sensation che era il prezzo migliore secondo me di tutto il web perché io la versione da 75 ml l'ho pagata un po' più di 70 euro poi su Sensation si possono applicare sempre degli sconti della propria tessera quindi l'ho pagata una settantina di euro che comunque per essere un'acqua allegoria di Guerlain è poco e questa appunto è la Flora Bloom forte bellissimo il packaging allora questo ha come note è un profumo diciamo floreale e fruttato ha un mix di appunto note olfattive floreali e fruttate come note di testa la mandorla il mandarino e un accordo di mango come note di cuore ha la tuberosa a me in genere non piacciono i profumi con la tuberosa ma questo piace molto dicevo come note di cuore ha la tuberosa assoluta di tuberosa rosa note di iris note di violetta e come note di fondo muschio sandalo estratto di noce di cocco è un profumo secondo me molto buono adatto a questa stagione e non è per niente stucchevole pesante l'ho già indossato ha comunque una discreta durata considerando che comunque è un'acqua allegoria e niente e quindi l'ho voluto acquistare anche perché su sensation regalavano anche la mini taglia sempre dell'acqua allegoria flora bloom forte però la davano questa anche se acquistavate un'altra acqua allegoria quindi l'ho voluto acquistare su sensation sia per l'ottimo prezzo e sia perché regalavano anche la mini taglia quindi magari se uno se la vuole portare in viaggio dicevo se magari me la volessi portare in viaggio senza volessi volermi portare tutto il flacone posso è molto comodo come dire è molto comoda la mini taglia ok direi che vi ho fatto vedere tutto poi mi hanno dato altri due altri campioncini questi mi sembrassi su sensation questo shiseido ultimate eye con tornocchi di shiseido io avevo provato l'altro della linea beneficence ottimo quindi sono contenta che posso provare anche questo poi il narciso rodriguez all of me sì questo devo dire l'ho provato non è non è un cattivo profumo però ecco non me lo comprerei non incontra particolarmente i miei gusti e poi della issei mitache non so come si pronuncia l'odisse e e magnolia questo invece sono molto curiosa di provarlo ecco direi che vi ho fatto vedere tutto questi sono stati gli acquisti fatti nell'ultimo periodo come vedete i profumi molti prodotti labbra niente fatemi sapere se i miei acquisti vi sono piaciuti io spero di avervi tenuto compagnia con questo video e noi ci sentiamo e ci vediamo al prossimo ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti